E' finita la stagione degli attracchi tra tronchi, pozzanghere e container. Ad esclamarlo con soddisfazione anche personale il consigliere comunale di Salerno, Rino Avella, che già amministratore dell'EPT di Salerno negli anni passati, fu tra i primi a credere nella potenzialità del settore. Ed oggi, il giorno dopo la conferenza stampa nella quale è stato presentato l'intero calendario che prevede a partire dal 21 marzo il ritorno delle navi da crociera con 70 approdi, in una nota lo stesso Avello rivendica la paternità di una serie di azioni che diedero il via agli approdi nel porto di Salerno. Con i dirigenti funzionari e tanti collaboratori che popolavano la storica sede dell'ente provinciale del turismo in via Avella, organizziamo una capillare azione di divulgazione e comunicazione sul porto logistico, ricorda oggi Avella. Si susseguirono incontri con le compagnie, in particolare la MSC, delle quali raccogliemmo le esigenze con Comune Capitaneria e con gli operatori commerciali per far trovare ai cruceristi quantomeno i negozi aperti il lunedì. Tra le altre azioni promosse, il consigliere comunale cita l'accoglienza con Cazzebo sotto bordo per la distribuzione di brochure ed itinerari di Salerno e provincia. Fu un'esperienza proficua ed utile, se oggi Salerno sviluppa questo segmento è perché una quindicina d'anni fa qualcuno ne scorse le potenzialità, vide oltre il fuoco di paglia della narrazione allora prevalente. Ed intanto c'è chi invece guarda al futuro e propone, proprio in vista del ritorno della stagione delle crociere, una serie di azioni per accompagnare il rilancio. È l'imprenditore Antonio Elardi, proprietario della struttura polonautico. La ripresa del turismo croceristico è senza dubbio un'ottima notizia per la città, dice oggi Lardi. Occorre però predisporre una chiara offerta culturale, gastronomica e commerciale per le migliaia di visitatori che arriveranno a Salerno, suggerisce l'imprenditore. Per questo è necessario attivare immediatamente un confronto operativo con le associazioni di categoria e le imprese salernitane.